Ciao ragazzi, una nuova ricetta velocissima di Rosso Tibet. Questa sera ho degli ospiti a sorpresa, ho controllato cosa avevo nell'armadio delle dispensa e ho trovato della panna a fare in una crema al caffè e poi mi riparerò anche io. Vente con me a vedere come si fa. Veniamo agli ingredienti. 120 ml di caffè, 5 cucchiaini di zucchero, 4 cucchiaini di crema di nocciole e 500 ml di panna da montare. Versiamo la panna nel cestello della planetaria. Metà quantitativo di zucchero nella panna, l'altra metà nel caffè. Incorporiamo la crema di nocciole all'interno del caffè. Con una spatola mescoliamo bene la crema di nocciole. Azioniamo la planetaria facendo attenzione a non frustare troppo la panna perché potrebbe diventare burro. Mi raccomando, la panna deve essere fredda, da frigo. Quando raggiunge una consistenza non di panna ferma, guardate lo faccio vedere col dito perché deve essere cremosa, aggiungiamo a filo il composto di caffè e crema di nocciole. Due ore nel frigo e una spolveratina di cacao amaro. Ecco qui la nostra crema di caffè. Grazie. Grazie. Grazie.